Siamo qui con Roberto Nikolic, si dice che lei sia fondamentalmente l'ideatore, il promotore di questa iniziativa per Giuseppina Garzi, è vero? Io ho scritto un libro su questa vicenda e ho supportato il consigliere comunale Pollero in questa vicenda, dal punto di vista culturale e dal punto di vista così dello sprone organizzativo. Sono circa 18 anni che seguo questa vicenda e sono veramente contento che ci sia stato questo epilogo che è un evento storico di una portata incredibile.